Chiaramente sì, il monitoraggio ci deve essere come sempre c'è in questi casi una sorta di contatto diretto in tutti e due i sensi con quelle che sono le esigenze della protezione civile, quindi relative ai rischi che si possono incontrare e il nostro supporto che fornisce eventualmente una stima della pericolosità. Chiaramente tutto il campo delle salinelle di Paternò hanno anche una storia veramente antica andare a definire poi con estremo dettaglio la variazione di un campo, questo è di là da venire ed è tutto da capire, da studiare, da impostare come idea di monitoraggio. È chiaro che il sito è più o meno quello e fortunatamente gran parte di quest'area è già un geosito e quindi non ha dei problemi legati all'antropizzazione del sito tranne che in queste piccole parti dove si è verificato questo evento la settimana scorsa.